deve avere un ruolo negli scenari di crisi più efficace, che sia più determinata nel perseguimento della sua agenda strategica e di una sua sovranità strategica per non consegnarsi a nuove pericolose dipendenze perché dobbiamo imparare dai nostri errori, che sia più efficace e ferma nel contrasto all'immigrazione illegale e nella difesa dei propri confini esterni, che sia più capace di armonizzare il tema della transizione della sostenibilità ambientale con la sostenibilità economica e sociale.